e benvenuti ragazzi benvenuti in questo nuovo video sono frank93 oggi abbiamo questi qui per misurare un po di tensioni prendiamo la nostra webcam ci farà da lampada una webcam da lampada non facciamo domande voglio vedere se qui c'è un minimo di tensione quindi prenderò il tester sposto questo vedo se c'è corrente piglio il tester sposta l'inquadratura ok mille vols un momento ora che si è incastrato il cavalletto ha una mola quindi sta sempre a fare qui vedete quanti quanta corrente c'è qui 0 impossibile ragazzi non c'è corrente non c'è proprio una tensione è uno raga ma non c'è un box ok vediamo a corrente continua se non vanno nemmeno a corrente continua è da buttare voi dovete guardare qui quindi la dovevo impostare a corrente continua ecco qua la fregatura la dovevo mettere a corrente continua perché se devo misurare una scheda la devo impostare sempre a corrente continua qui non ce n'è corrente c'è come si si come no la corrente c'è ma non si vede la corrente c'è ma non si vede quindi vedremo che c'è qui sotto ora misuriamo la tensione di questo ci dovrebbe essere per forza un minimo di corrente troppa corrente non è buono ma anzi è buonissimo guardate questo display positivo e negativo negativo e negativo 400 volte manca una casa due casi con 400 volte ci alimentiamo voglio un'altra cosa il dottor Thomas non è 0 la corrente c'è la cornetta di un telefono qui non ci sarà qui ho paura perché questo è del telefono mio di casa quindi ho paura un po' qui non c'è corrente il dottor Thomas non è in z sti cavi 10 metri 10 metri di cavi per arrivare fino a qui 10 metri di cavi dove è misura 10 metri di cavi rimettiamo al posto benissimo madonna ok le mettiamo qui tutto a posto ok ragazzi questo video finisce qua se vi è piaciuto tanti like ciao alla prossima